Arriva il gol della Fiorentina, c'è stata la penetrazione centrale di Gonzalo Rodriguez che ha messo di testa il pallone alle spalle di Agazzi. Ancora in gol a Gonzalo Rodriguez, davvero un fattore sui calci d'angolo per la squadra di Montella, l'ex difensore del Villarreal. Nonostante abbia tagliato i capelli rispetto alla scorsa stagione non ha perso la sua forza, anzi sembra davvero un giocatore anche dal profilo e dal prospetto interessante, giocatore che ha superato parecchi infortuni nella sua carriera che ne hanno di sicuro.